Ah, quanto sarebbe bello capire il moto dei corpi celesti. È un vecchio sogno. Qualcuno non pensa di leggere il proprio destino nella posizione degli astri. Si possono prevedere le collisioni tra i pianeti? La gravitazione potrebbe espellere dei pianeti all'infinito? Oppure, al contrario, ci si deve aspettare una stabilità del moto del sistema solare? Ecco qui delle questioni delicatissime. Come sempre, in matematica, di fronte a un problema troppo duro, si cerca inizialmente una situazione più semplice. Guardate questa scodella a forma di parabola. Se lanciamo una pallina, essa è sottoposta al suo peso e alla forza di reazione che la costringe a restare sulla superficie. Vediamo che il problema è analogo a quello di un pianeta attirato dal Sole. Il moto sembra troppo regolare per assomigliare ad un sistema solare complesso con molti pianeti. Prendiamo allora una situazione un po' più complicata. La pallina è sempre sottoposta al suo peso e alla forza di reazione della superficie. Il moto è veramente complicato. Annulliamo il peso della pallina ma conserviamo la forza di reazione della superficie. Ascoltiamo piuttosto Pierre Duhem, il filosofo della scienza, presentare i lavori del matematico Adamart, pubblicati nel 1898, in un articolo dal titolo «Sulle geodetiche delle superfici con curvature opposte». Una massa a materiale scivola su una superficie. Nessuna forza peso, nessun attrito disturba il suo moto. Descrive una linea che i geometri chiamano una linea geodetica della superficie considerata. Quando ci si dà la posizione iniziale del nostro punto materiale e la direzione della sua velocità iniziale, la geodetica che deve descrivere è ben determinata. Immaginiamo la fronte di un toro con le protuberanze da cui partono le corna. I passaggi che si scavano tra le sue protuberanze. Ma allunghiamo senza limite queste corna in maniera tale che si estendano all'infinito. Avremo una delle superfici che vogliamo studiare. Allungare le corna all'infinito? Ecco una vera idea da matematico. Lanciare una pallina sulla fronte di un toro al quale avremo allungato le corna all'infinito. Useremo un esempio differente ma infine molto vicino alle geodetiche di Adam Hark. Il gioco del bigliardo. Ecco un tavolo da bigliardo rettangolare. Lancio una pallina. Poi un'altra, quasi allo stesso modo. Troppo semplice. Le due palline seguono traiettorie vicine. Un tavolo da bigliardo ellittico? No, ancora troppo semplice. Qua ancora, due palline che partono con delle condizioni iniziali vicine hanno delle traiettorie che restano vicine. È un po' come se osservassimo le geodetiche sulla fronte di un toro che fosse senza corna. Introduciamo un primo corno un cilindretto. Guardate adesso due traiettori vicine. colpiscono il cilindro la prima parte da un lato la seconda dall'altro. I loro futuri diventano rapidamente molto diversi. Ecco un piano infinito dove delle palline possono scorrere senza attriti. Su questo piano ci sono tre ostacoli circolari. chiamiamoli A, B e C. È un po' come se osservassimo le geodetiche su una superficie con tre corna. Mettiamo una pallina e lanciamola. Se si prende bene la mira la traiettoria può colpire A poi B poi C poi A poi B poi C eccetera. Una traiettoria periodica triangolare. Ci sono altre traiettorie periodiche? Adamard dimostra un magnifico teorema. Afferma che se scegliete una qualunque parola scritta con le tre lettere A, B, C con la condizione che due lettere che seguono siano diverse ad esempio A, B, A, B, C, A, B, C ebbene esiste un'unica traiettoria periodica che visita in successione i cilindri nell'ordine dettato dalla parola in questione. Vedete la complessità della situazione. Per ogni parola c'è una traiettoria periodica ed esistono molte parole. Per esempio la parola A, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C è una traiettoria che sembra giocare tra B e C e che un rimbalzo su 11 va a colpire il cilindretto A. ovvio bisogna prendere bene la mira molto bene Tutto questo richiama i numeri reali. Alcuni di essi hanno una scrittura decimale periodica sono i numeri razionali 123 fratto 999 per esempio è 0,123 1,2,3 1,2,3 eccetera e 2 fratto 7 è 0,2 8,5,7,1,4 2,8,5,7,1,4 2,8,5,7,1,4 eccetera i numeri irrazionali quanto a loro hanno una scrittura decimale che non è periodica di greco per esempio ebbene per il nostro biliardo è lo stesso alcune traiettorie sono periodiche sono descritte da una parola periodica nelle lettere A, B, C altre sono descritte da una parola infinita non periodica ed infine altre ancora visitano A, B, C un numero finito di volte e poi vanno all'infinito senza più tornare osserviamo il toro di Duem per prima cosa ci sono delle geodetiche che si chiudono su loro stesse ce ne sono anche altre che senza mai ripassare esattamente al loro punto di partenza non se ne allontanano mai infinitamente le une girano incessantemente attorno al corno destro le altre attorno al corno sinistro altre ancora più complicate fanno alternare seguendo certe regole i giri che descrivono attorno ad un corno con i giri che descrivono attorno all'altro corno sulla fronte del nostro toro ci saranno così delle geodetiche che se ne vanno all'infinito le une si inerpicano sul corno destro le altre si inerpicano sul corno sinistro immaginate la luna che dopo essere restata gentilmente in prossimità della terra decidesse di colpo di partire che all'infinito malgrado questa complicazione se si conoscesse con un'intera esattezza la posizione iniziale di un punto materiale su questa fronte di toro e la direzione della velocità iniziale la linea geodetica che questo punto seguirebbe nel suo moto sarebbe determinata senza nessuna ambiguità sarebbe tutt'altro se le condizioni iniziali non fossero date matematicamente ma praticamente apprezzate la sottigliezza non matematicamente ma praticamente guardate queste geodetiche che partono quasi nelle stesse condizioni per un bel po' seguono quasi lo stesso cammino e poi si separano la geodetica verde rossa e quella blu hanno dei futuri totalmente diversi se dunque un punto materiale viene lanciato sulla superficie studiata a partire da una posizione geometricamente data con una velocità geometricamente data la deduzione matematica potrà determinare la traiettoria di questo punto e dire se questa traiettoria sia lontana o no all'infinito ma per il fisico questa deduzione è sempre comunque inutilizzabile per il momento tutto ciò riguarda le geodetiche e le traiettorie del biliardo può ciò applicarsi nella vita di ogni giorno per il moto dei pianeti ad esempio potremmo determinare il nostro futuro ecco la domanda ancora senza risposta per la domanda